Italia sta bene, è rimasto un allenamento, rimasti due giorni prima di campionato, fortunatamente stanno bene, hanno lavorato benissimo, pesantissimo, prima settimana è stata dura, con preparatore atletico, ma hanno resistito e li devo fare i miei complimenti. Siamo pronti per combattere. Come arriviamo a questo appuntamento e che avversari ci troveremo davanti, qual è il livello di questo campionato europeo? È il livello difficile che te lo posso dire, però penso che siamo più o meno nello stesso livello con la Bulgaria, con la Turchia, vediamo la Spagna in che condizioni è, però questo gruppo lavora da un po' di tempo insieme. Non è un gruppo formato ieri come con Under 17, è un gruppo che ha fatto campionato Under 17, due anni fa a Lignano, tanti hanno giocato campionato di A1 e li ho trovato migliorate e penso che anche potranno dare qualcosa in più. Sarebbe eccezionale arrivare a finali, ma mi auguro che ce la facciamo. Qual è l'augurio di Liliana Ivaci a questa squadra? Augurio a questa squadra di fare belle prestazioni, di farsi vedere e conquistare l'indomani un posto alla Nazionale Senior. Sicuramente a causa del Covid abbiamo avuto meno giorni per preparare rispetto a due anni fa l'europeo, ma ce la stiamo mettendo tutta. Giustamente abbiamo qualche acciacco, ma si stanno rimettendo tutte e cercheremo di mettercela tutta. Avete vissuto comunque, al di là delle difficoltà che dicevi, un periodo abbastanza lungo di preparazione qui al Centro Tecnico Federale di Chieti. Come state? Da un punto di vista soprattutto mentale e psicologico, anche perché è un championship che arriva alla fine della stagione e poi vi siete subito radunate qui a Chieti, tanti giorni di lavoro, bisogna restare concentrati, poi fa anche molto caldo. Sul lato mentale erano molto felici comunque di rivederci dopo un lungo tempo. Sul lato fisico, naturalmente alcune di noi si sono fermate prima per il campionato perché non hanno fatto le finali nazionali, giovanili, però si sono impegnate anche loro tenendosi in forma e allenandosi. Cosa si auspica il capitano Ramona Manolevic per la sua squadra? Naturalmente punteremo a vincere, come tutte le squadre. Ce la metteremo tutta, sia con il cuore che tecnicamente.